Intro Ho finito gli esami per oggi E ovviamente sono tutti disponibili Ma c'è Junpei Signore e signori Attenzione Ehi oggi sei libero? Beh in teoria Non sembra esserci null'altro di importante Quindi fammi prima andare al santuario E ora andiamo da Junpei Vediamo che c'è Ehi come va Phoenix? Ehi sei libero ora? Ti compro dei takoyaki Dovrei passare il tempo con lui? Andiamo Va bene andiamo a Octopia Vorrà parlare di Di cosa che è morta E anche di Ryoji Come mai il santuario? D'accordo È una buona idea Perché ho l'impressione che ci metterai più tempo del dovuto Ah invece no Ti ringrazio Quanta generosità Grazie Ah non ti preoccupare Tutto a posto Tutto passato Ehi io già non ci pensavo più Non risolve nulla Tutto qua Va bene ti ho già perdonato Lo sappiamo che sei un coglione Lo fanno anche nella realtà Trave tranquillo Tranquillo I tuoi modi? Beh Perché lei sarebbe morta? Fai tranquillo Succede purtroppo Ehi L'importante è che te Sia reso conto Poi il resto Me ne mangerai una porzione Ancora Tutti che me lo chiedete Sì L'ho già presa Ma devo essere io a decidere Eh già Eh non è facile guidarvi eh No No però la consapevolezza Della fine Senza saperlo Che ci dori Anche perché non lo sapreste Vai tranquillo L'importante è che stasera vai sopra a leggere Io e Junpei abbiamo chiacchierato sulla strada del ritorno Ho aumentato il mio coraggio ma Arrivati a questo punto Ecco qua il mio pacco Ma poi scusami Ora che ci penso Tempo degli esami La fascia per diventare bravissimo Ti arriva dopo l'esame Fantastico Vabbè vediamo cosa fa Bentornato Dopo aver finito gli esami Ho fatto una passeggiata in città Ci sono perduti ovunque Imbattersi in loro Non è più una situazione occasionale Forse ha a che fare con la caduta Dobbiamo fare qualcosa? Sì Sono d'accordo Dobbiamo continuare a esplorare il tartaro Che il nostro avversario sia un ombra O il destino stesso Per vincere dobbiamo essere forti Sì ma voglio aspettare che mi chiami E tu non sei sopra a leggere Maledetto Che mi chiami prima Elisabeth Allora 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 Fascia della vittoria Resistenza alle alterazioni Non è male Però a quel punto Tanto meglio Guarigioni istantanea A quel punto Se deve succedere Succede Ma almeno Ci curiamo istantaneamente D'accordo Oggi è sabato Che cosa aumentiamo? La magia Non è quello che ci serve Vabbè La usiamo su di lui dai Non ho altri modi Per passare la serata oggi Anche se potrei uscire Con Koromaru Oggi è domenica Che cosa ci venderà Tanaka Anche oggi? Ciao Yukari E chi è? Cosa? Oh 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 Iscrivete Come oi oi vuole parlare di noi no non è vero vuole parlare che l'abbiamo rifiutata ovvio voglio dimenticare soprattutto dopo aver cacciato il tuo fidanzato oi 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 è stato l'anno più bello della mia vita sono contento che loro due alla fine si siano messe d'accordo oh e ora si mettono assieme loro due dunque cosa mi vendi oggi oggi vi offriamo il set per stare caldi e comodi con il drastico caldo delle temperature di questo mese non vorrete mica prendervi una freddora iniziamo con Montgomery Rosa che vi permetterà di sopravvivere persino al pollo nord santo cielo che meraviglia ma aspettate non è tutto si aggiungo anche la Tina e quindi è una montagna di una caccia di torbili è un'altra cosa che è la tarda che è un'altra cosa che non ci ringrazio c'è un'altra cosa che si stava mi è un'altra cosa che torna Hanno messo le robe di Natale Starcoon, quale pensi che sia il vero significato del Natale? Il consumismo, la gioia nel mondo Lo penso anch'io Credo che lo spirito di Natale dovrebbe mettere un sorriso sulle labbra di tutti Per cui dobbiamo essere felici È bellissimo quell'arbelino di Natale Ma c'è solo questa come decorazione È un po' triste, però vabbè, dai, almeno è qualcosa Ah, guarda quanta spazzatura Maledizione, e c'è un gatto qua Come andiamo oggi? Oh, Star, avevo fame, ma volevo aspettarti Speravo di poter mangiare insieme a te Andiamo avanti, allora Grande, andiamo Oggi prendiamo i takoyaki, voglio quelli appena cucinati Come la prima volta, eh? Dè Miam Vuoi che pago io? No, però si offenderebbe Callo Eh, esatto, purelli, morreranno di fame Oh, dai, meglio Eh, è passata una settimana, fra Oh Che roba carina Beh, sì, è probabile Non ci pensare Non fasciarti la testa prea del tempo È stata una giornata breve, ma va bene così È stata una giornata breve, ma va bene così Sembra un discorso da nono livello questo, però siamo all'ottavo Non so se nel prossimo rango o nell'ultimo ci sfideremo, però spero sia una bella sfida Ci vediamo A questo punto, sta settimana, io finirei Mitsuru E poi proseguirei con Fuka e Yukari E saltoariamente con gli altri due Junpei, 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 ti prego sei su Ti prego dimmi che sei su Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Maledetto, inutile, maledetto Dovevi andare a leggere e smettere di mangiare quel ramen Ci manca un cazzo di manga Vai a prenderlo Vabbè, almeno oggi è domenica Andiamo ad aumentare il nostro attacco E oggi si torna a scuola Ehi, hanno pubblicato i risultati Andiamo a vedere, forza Ho il voto più alto della classe Mi guardano tutti con rispetto Guarda qua che faccino Ora che ci penso, Mitsuru mi aveva promesso un regalo speciale Dovrei parlarle Tanto sono incensi, eh Che in realtà Guarda, guarda, in realtà schifo non ci fanno ora come ora Oh, che palle Siamo un po' avanti col programma Quindi facciamo un ripasso Per l'elettromagnetismo dovete tenere a mente la forza di Lorenz E la regola della mano destra di Fleming Non vi darò punteggio parziale se scrivete mano sinistra, chiaro? Ok, andiamo avanti Ho sonno Dopo aver fatto tutte le risposte giuste Posso anche dormire un pochino Andiamo a vedere, dal polizotto sa qualcosa Ok, c'è roba nuova, veleno medio, non male Prima di decidere dal poliziotto facciamo sempre un giro anche dall'antiquaria E ok, ora possiamo decidere cosa comprare Acquisti fatti per tutti Spesi come al solito un sacco di dindini Allora, Mitsuru, qual è il mio premio? Ah, star Ho visto i risultati degli esami, ottimo lavoro È incognabile come tu continui ad accelere a scuola pur combattendo tante ardua battaglie Ti ho preso un regalo come riconoscimento per il tuo impegno Ecco, prendi L'incenso del maestro Dato che ho ottenuto il massimo mi ha dato anche il ciondolo della fenice Perché mi sa di roba che mi evita la morte? Ciondolo della fenice è resurrezione L'incenso del maestro invece mi sa tanto di roba Di tutte le statistiche È un po' spreco, però usiamolo su Cenerentola Perché è uno più a tutto, ok, vabbè, non è che ci serva granché Però almeno la facciamo recuperare prima del tempo Allora, andiamo a finire il Confident? Ah, star Sarei contento per la fine degli esami Ottimo lavoro Direi che possiamo permetterci una pausa Star, hai programmi per oggi? Se no, magari usciamo Buono sapersi Mi hai mostrato così tante cose che vorrei restituirti il favore Detto questo, torniamo al dormitorio intanto Cosa vuoi mostrarmi? Ah, vuoi farmi fare un giro? Davvero notevole? Penso che la gente frega nulla Perché mai? È una tua passione Meno male Oh, dai, sono contento Oh, finché niente matrimonio va bene così, no? Potrei sposare con chi vuoi Oh, che cosa? La chiave della... Ma dai Ma sei sicura? Quello è vero Verissimo E quindi mi hai dato un duplicato Beh, ha senso Ha senso Non ho la patente Non ho la patente Mi sembra una buona scelta Tutto questo mangiando degli hamburger Siamo degli amici fidati ora Guarda, onestamente Non mi dispiace come evoluzione della sua storia Anche se le prime parti era Non ho mai visto un cazzo del mondo Andiamo a mangiare in posti Che non ho mai visto Cioè, onestamente Era una roba abbastanza base La parte del matrimonio Era già un po' più Importante almeno Hai sbloccato il vero potere Dell'imperatrice E la forma definitiva Dell'imperatrice Sarà Vediamolo subito Onestamente non mi va di fare lo stronzo Ad avere più fidanzate Non in questo gameplay almeno Ah Alat L'antica dea Ottimo D'accordo Ma c'è posto C'è dietro quella scatolina Oh D'accordo Andiamo Sarebbe bello Se per la Lo facessero vedere Però minimamente Abbiamo girato per la città Poi siamo tornati al dormitorio Sarebbe stato bello Vederlo, sai No, 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 no Facciamo vrum vrum Nel buio Mi sembra giusto Perché sprecarsi D'altronde Oh, ciao Bentornato Vi ho visto che eravate in moto assieme Oggi è il 21 dicembre Mancherò solo dieci giorni Alla vigilia di Capodanno Per qualche motivo Non ho fatto paura Beh, forse non dovrei dire affatto Ma ora credo Di stare meglio Combatterò Vinceremo o perderemo Non lo so Ma voglio essere certa Di aver fatto tutto il possibile Junpei Porca di quella puttana Vai sopra Rendi tutto così dannatamente difficile tu Ho l'impressione che Aegis tornerà Poco prima di Capodanno Porca di quella puttana Lo sapevo Ciao Elisabetta Dimmi tutto Dimmi, dimmi Che novità Eh, vabbè Due persone Arrivederci Interrogazione Che palle Oggi fa freddino Atalghibor Lea Obom Odain La profondisce È andata via prima Quindi la sostituisco io Credo che oggi parleremo Delle esperienze pre-morte Non c'è motivo particolare E ciò a cui penso ultimamente Tutto qui Ora l'esperienza pre-morte Si definisce come qualcosa Che un individuo Prova appena prima di morire È forse un vero sguardo All'aldilà O una mera illusione Del cervello Le opzioni variano Ma è certamente vero Che le esperienze pre-morte Sono stato oggetto di dibattito Per diverso tempo Ci sono alcuni documenti Arrivati fino a noi Dalle antiche esperienze pre-morte Secondo gli iscritti di Platone Un soldato risuscitato Visitò l'aldilà Sotto forma di spirito Un incidente simile Fu segnalato in Giappone Dall'entonologo Kunio Yanagita Nel tono monogatari Lo psicologico Carlo Chang Scrisse che Nella propria esperienza pre-morte Aveva visto il mondo da lontano Sono certo che avreste sentito Anche voi Storie simili Ma individui Più o meno noti Oggi ho con me Delle testimonianze dirette Ve ne leggerò alcune Ho sentito Come se la mia anima Si fosse separata dal mio corpo Ho incontrato un amico Che era già morto Ho visto tutta la vita Passarmi davanti agli occhi Ho visto una luce molto intensa E' rinondato dalla luce Il mio corpo Traboccava di felicità Questa sensazione di pura gioia Edetta anche euforia In ogni caso Testimonianze del genere Sono tipiche dell'esperienza Alcuni hanno tentato Di documentare direttamente Le esperienze pre-morte Il ricercatore Kenneth Ring Ha provato a quantificare Con l'indice ponderato Di esperienza prima Grazie ai recenti studi E' stato elaborata una nuova teoria Sull'esperienza pre-morte Ovvero Se un individuo sta morendo Nega questo fatto Alla fine capirà Che la morte è una realtà Da accettare E ne sarà turbato Di conseguenza Farà tutto il possibile Per allungare la propria vita Ma la futilità dei suoi sforzi Lo porterà alla depressione Alla fine accetterà il suo fatto Per quanto possiamo negare la morte Alla fine lo accetteremo Noi umani siamo fatti così Mi state ascoltando? Non capita tutti i giorni Di assistere a una lezione del genere Che ne dite di una domanda Per misurare la vostra attenzione Se sbaglierete i ricordi Della vita scolastica Scompariranno E quella roba lì dai Bene Chi dovrai scegliere? Te star Come chiamiamo La sensazione di gioia Che si prova In un'esperienza pre-morte? L'euforia La Jugoslavia Avevo letto Ottimo lavoro Esatto La tua vita scolastica Sarà l'età E spensierata C'è chi dice Che un'esperienza pre-morte Risvegli la propria Conscienza superiore Che sia vero o meno In chi ne ha sperimentata una Si può notare Un minore paura della morte Forse anche perché Le esperienze pre-morte Sono sorprendentemente Prive di dolore e sofferenza Ciò non vuol dire Che dovete andarvene a cercare una Usate con saggezza Il tempo che avete qui Ok? Bene Per oggi è tutto La lezione è finita Allora Volendo della fortuna Possiamo fare Norma Che comunque È una gran bella persona Che tra l'altro Usa tutte e tre Le sorelle Che usano il filo E ha già anche Amplifica vento Quindi Direi che è perfetta da fare Mi chiamo Norma D'ora in poi Ti accompagnerò Che la fortuna Ti sorrida Potremmo fare anche Alice Volendo Però per quella Vorrei aspettare un attimo Sai? Quindi resisti Elettricità Potenzia vento Niente più debolezze Club dell'arte Oggi Ah Che problema hai? Vuoi cambiare la tua vita E diventare medico? D'abbastanza D'averti sentito Già Quindi Vuoi ritirarti? Che è quello di medico? Allora Il fatto che l'ospedale sia stupido No Dovresti seguire il tuo sogno Infatti Lamentarti con me non aiuterà Devi dirlo a lui Esatto Se vinci il concorso Prosegui la tua strada Se perdi Diventi medico Bravo Mi sembra la scelta migliore Vai tranquillo E rimarrà un segreto Vai tranquillo Faccio pure il messaggero Vai tranquillo Vai Che si dice coso Wow Così semplice oggi Junpei Maledetto Infame Maledetto Maledetto Ma è anche colpa mia Tutte le volte che l'ho lasciato di sopra Montgomery Rosa 100 HP Aia Non male eh Però Se solo potessi darlo ad Aegis Sarebbe meglio Fuka Andiamo a fare le piante dai Ah giusto Sono da raccogliere Mi ero dimenticato Pomodoro giallo Pomodoro giallo piccolo E pomodoro giallo ex Addirittura Quindi piantiamo Questa volta L'erba semplice Vediamo cosa esce fuori Questo con Aegis Di tutti gli alleati 130 Questo con Junpei Ed è quello piccolo Junpei poverino Le piante sono quelle che gli escono Peggiori 110 Pomodoro giallo normale 130 Ripristi a del tutto Gli SP di un alleato Ok Questo te lo concedo Tanaka Dai Andiamo a fare le piante Voglio vedere cosa esce fuori Dall'erba Ehi Beh Beh Ma volevi fare visita Anche a qualcun altro No Ora E' un po' 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 Sarà Sarà grosso Grande Cattivo Vogliono tutti combattere Quindi se Se noi decidiamo Di non farlo Siamo proprio Degli stronzi Oggi è il compleanno Dell'imperatore Non si va a scuola Chi c'è oggi? Solo a Yase Guarda In realtà non è neanche terribile Come scelta Ehi Star Mangiamo qualcosa C'è una cosa di cui volevo parlarti Sei libero ora Andiamo Benissimo Allora andiamo a mangiare il ramen Oggi prenderò l'extra Largio speciale Che sarà uguale Tutte le altre volte Hai vinto Certo che ho vinto Congratulazioni Bravo Quindi cosa farai ora? Vogliamo previsi Chiamassi Beh Che vuoi parlare Per fare Eh lo capisco Però Non è l'autora Non c'è Tra l'altro Non c'è Il mio amore Non c'è Lo scoperto Non c'è Managgia E' anche uno spreco Però così Non c'è Un po' C'è Tocco Mi Riconosci Mi C'è Ok D'accordo Grazie Lo so che lo fa con affetto però Non ci sarebbe bisogno Non la vedo così io Eh ho capito però Boh è un peccato Ayase si è aperto come riguarda la sua decisione Questo qua ha un talento Per carità il fine è nobile Però è un vero peccato la fine Cioè spero non ti dico al prossimo rango Ma anche alla fine proprio del gioco Quando lei rincontri le persone Che qualcosa si è cambiato Onestamente Mi dispiacerebbe per lui Ah proprio così manco finisci la scuola Wow Cioè io capisco benissimo la situazione Però la vedo tanto tanto ingiusta Nei suoi confronti Oh salve Mancano otto giorni alla vigilia di Capodanno Star San hai già preso la decisione Beh io si combatterò Ci ho pensato molto Poi ho capito che non c'era molto da cui pensare Insomma non posso dirmi Madre ad Aragaki San che abbiamo perso Tutto qui Perché mi fai questo? Perché devi fare il cazzone? Sei l'ultimo che manca maledetto Comunque è impressionante Che appena fatta sta persona Sia già allo stesso livello di Siegfried Prima che lo bustassimo con Con gli incensi Certo anche lei Ci abbiamo dato dentro con l'incenso Oggi è la magia Norma è la persona adatta oggi da aumentare Uh oggi è la vigilia è vero Oggi è il 24 dicembre È la vigilia di Natale È un giorno importante in America e in Europa Anche se diversamente dal Giappone Il 25 dicembre è il giorno di Natale È ancora più importante Sapete tutti perché festeggiamo il Natale È il primo luogo In Giappone la vigilia di Natale È solo un giorno in cui le coppie Passano il tempo assieme Scambiandosi i regali Ho sonno E sai che ti dico? Ciao ciao Beh già mi ha dato l'informazione che mi serviva Passare il tempo con la persona che ami Io ho già la persona che amo E so già con chi passarlo Oh ma guarda un po' Ehi oggi è la vigilia di Natale Insomma Ma coltello Ma coltello È bellissima questa frase Il nostro primo Natale Dio mio Quanto mi sentirei un bastardo Ad aver avuto più gente Buon Natale Ops è solo troppo presto Non vedo l'ora di passare un po' di tempo con te Ma certo Dovrei passare il tempo con Yuko Ma certo Stai per conto tuo Ma certo Dio mio Ma ci mancherebbe anche Dio mio Posso solo dire però una cosa Fermati lì un attimo tesoro È stranissimo Pensare a persona 5 Che alla vigilia di Natale Noi stavamo combattendo contro Dio E qua La stiamo vivendo Con l'ansia che il mondo finirà Però ancora tranquilli Tesoro Andiamo C'è qualche posto diverso In sto mondo Andiamo allora Madonna mia Con quelle calze lì Ho deciso di passare la vigilia di Natale Con Yuko E beh ci mancherebbe anche Che facevamo Stavamo da soli Christmas Dove si va dopo È davvero bello Facciamoci una fotografia C'è qualche posto di Natale Ciao Perché non c'era la scelta Tienila per mano Ho fatto un giro Osservando gli addobbi natalizi È perché noi cosa siamo Il tuo regalo di Natale Il cerotto medicato Wow Dovrei regalarle qualcosa No Ok offre un regalo Finalmente Che regalo dovrei offrire Abbiamo L'imbarazzo Della scelta A cuore Le darei il portafortuna Però Voglio darle L'orologio In segno del tempo Passato assieme Sembra davvero felice Del regalo Vorrei passarlo in camera Però come Come l'abbiamo passato Anche negli altri giochi Ti prego Ti prego Dagli un bacio Ti prego Ti prego Ti prego Fallo per me Ti prego Perché Perché questo gioco Non si spreca Perché questo gioco Non si spreca Niente Perché non si sono Sprecati neanche Di fare un'animazione In cui si avvicinano Ti dico il bacio Ma perché Non vi siete sprecati Maledetti Maledetti Vi odio Atrus Di merda Potremmo Come avete scuola Il 25 Ti prego Ti prego Palle Che spreco Ma perché Dobbiamo andare A scuola Il 25 Di dicembre Allora abbiamo Agliase Però mancano due giorni Alla domenica E quasi quasi aspetto Abbiamo Fuca E bebe Io porterò avanti Fuca Sono davvero Scontento Del fatto che non abbiano fatto Una minima scena Per il natale Davvero triste Dai Andiamo avanti Con Fuca Andiamo Grazie Allora Che ne dici Di andare sul tetto C'è una bella vista Lassù Così Eh dai Vai È qualcosa A cui tieni Veramente Dai Fammi vedere Fuga Mi offre un vento All'interno ci sono Nigiri con alga marina L'odore è buono Decido di assaggiarne uno Almeno è commestibile Il riso ha un buon sapore Ed è condito al punto giusto Oserei addirittura Che dire Che è delizioso Beh Era buono Hai fatto davvero Un ottimo lavoro Brava Complimenti Sì Come facciamo a dimenticarlo Si inizia sempre Dalle basi No Quindi volevo Mi aspetta anche il prossimo Allora Contento di aver aiutato Grazie a te Grazie a te di non avermi ucciso Quando sei disponibile Quando sei disponibile Non c'è problema E di cosa Anche tu fai il tuo Fuka sembra che apprezzi molto Fuka sembra che apprezzi molto La nostra relazione sta diventando più intima Dai siamo già a metà del percorso Adesso dice qualche minchiata Ah ok no dai Ha detto una cosa giusta Ho passato la giornata ascoltando i consigli di Fuka su Yonigiro Non dici di tornare al dormitorio Oh sei tornato Quindi oggi è il 25 dicembre Ma tutti questi discorsi sulla morte e sul destino Che Natale cupo Andrà meglio quello dell'anno prossimo Esatto L'anno prossimo Non permetteremo che il mondo finisca Certo Se ci sarà mai un anno prossimo Volentieri Maledizione però eh Se è solo Junpei Se è solo Junpei E che vorrei aspettare Prima di tornare nel tartaro Vorrei vedere se torna Aegis Voglio aspettare a questo punto Uh Pensa un po' Voglio aspettare a questo punto Gli ultimi due giorni Come al solito Dai Avresti un po' di tempo Andiamo Eila come va? Hai visto il mio messaggio Volevo chiederti di andare in un posto Andiamo allora Grazie Beh prima di uscire Fa freddo Cosa volevi chiedermi? Ok Quindi voglio allenarmi con te Giusto? Ha senso Ha senso Mi sembra sensato Oh se ci fa lottare per davvero Sarebbe fighissimo Comunque La spada di gomma Vacci piano con me eh La mazza di gomma Ti prego Ti prego Combattiamo per davvero No Dai Che palle Che non si spreca proprio Però sto gioco Sei un healer magico E' ovvio che combattere solamente fisico Non era la scelta migliore Vai tranquillo Oh quando vuoi Te lo auguro Magari quando sarò morto Lo so Ma ora ce l'ho Ma ora ce l'ho Non c'è Che febbra Non ti prego Mi sembra Che bello Se mi Anche A me Mi Sì Mi Adesso Ho Sì Prima Sì E' qui, non c'è? E' qui... Senti, tutti... E' qui... Buon Natale anche a te allora! Ha... 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 Forse non in pantaloncini, sai? Beh, fai pure... Beh, fai pure... Va bene... Beh... Piccolino... Dopo aver chiarato con Amada siamo adatti nella sua stanza e i suoi sentimenti onesti di Amada mi hanno ispirato. 3 SP non è granché, ma... Sempre accettati. Da domani siamo a casa. Almeno quello. Oggi è l'ultimo giorno del secondo quadrimestre. In questo quadrimestre è successo di tutto. Comunque devo andare a scuola. Eh beh... Vedremo il preside? No, strano. Sento la gente che parla. Buongiorno, oggi fa proprio freddo, ma almeno domani iniziano le vacanze invernali. Cosa farei con i soldi di Capodanno? Ahah, non li ho ancora ricevuti. Ma voglio un pacchetto a sorpresa. Sto puntando a quello con una borsetta. Oh, anche io! Ehi, oggi ci mettiamo in fila. Possiamo portare un kotatsu? Hmm... La prima campanella è suonata. E' qualcosa che ci interessa? Qualcosa che ci può servire veramente? Non credo. Le vacanze invernali iniziano domani, ma tanto molti di voi le passeranno a dormire fino a Capodanno, invece di fare qualcosa di utile. Dovreste cominciare l'anno aiutando i vostri genitori. E se state svegli fino a tardi, non addormentatevi sotto il kotatsu, ok? Io non ho genitori. A proposito, mi viene in mente un passaggio di un romanzo famoso. Le persiane della finestra est. No, un attimo, era un futon. Ho sonno. Maya, ti voglio bene, ma ciao. Sono troppo intelligente per ascoltarti. Domani iniziano le vacanze invernali. E vai! Il che vuol dire che fino a che non finiscono le vacanze, non rivedremo un po' di persone. Non rivedremo un po' di persone, compresa la nostra fidanzatina. Piccolina lei. Alla fine abbiamo mantenuto la nostra promessa. Siamo usciti con lei a Natale. O meglio dire, alla vigilia. Allora, allora. Nessun oggetto. Scusa se te lo chiedo all'improvviso, ma avrei bisogno del tuo aiuto. Sai che sì? Effettivamente, fra te e Yukari non saprei scegliere di meglio oggi. Allora, spero che domani Ayase ci sia, quindi andiamo con Fuka. Cosa vuoi farmi assaggiare oggi? Sei libero adesso? C'è una cosa di cui voglio parlarti. Andiamo. Grazie. Torniamo sul tetto. Scusami, non ci vorrà molto. Sì, è una buona scelta. Ehi, da qualche parte bisogna pure iniziare, no? Ovviamente, non c'è problema. Assolutamente. Andiamo. Il suo è un confident molto semplice da questo punto di vista. Io vorrei fare il vostro è un confidente. Non mi piace, ma... Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Lo ripeto, arrivato a questo punto della storia lei dovrebbe essere già molto più sicura di sé. Poi ovvio che stiamo parlando del confident e il confident deve essere generico. Però lei arrivata a questo punto della storia dovrebbe essere già molto più sicura di sé stessa. così si fa, si migliora sempre. ... Perché così ci sarei ancora più utile nella squadra. Eh, mi spiace, Fuka. Ho già dato a Natale con un'altra persona. Sono già impegnato, ragazze, mi dispiace. Dovevate pensarci prima? E cosa? Esatto. Onestamente è una tua scelta e quella deve rimanere. Ci vediamo dopo. Spero che domani a Yase ci sia, così completiamo anche la stella e così le domeniche saranno totalmente vuote da qui a fine gioco. Il quadrimestre si è concluso, manca solo 5 giorni alla vigilia di Capodanno. A dire il vero sono ancora in ansia, ma non sono più insicura. Ho fatto la mia scelta senza ombra di dubbio. Combatterò fino alla fine. Junpei, ti prego, fa che sia su, fa che sia su, ti prego, ti prego. Sì, finalmente finiamolo, dai, e anche oggi è una vittoria. Ho tutti i numeri del manga. Stiamo arrivando all'ultimo inning, dobbiamo terminarlo. Porca troia, dai, buttati su sto divano che leggiamo, dai. Oh, dai. E fa un home run. È abbastanza stereotipo, però è vero. E che succede dopo? Beh, sembri così entusiasta, tanto vale. Non è mai solo un manga, bello. I manga ti danno tanto. Dai, tutto in un colpo. È vero, comunque, è abbastanza stereotipo. Lo facciamo già, si chiama Teorgiea. Perché non ci provi? Beh, ormai noi siamo più che maestri. Pensate, e se lo dice lui? E se lo dice quello che va solamente di critico, allora? Abbastanza. Junpei ha imparato dei trucchi per combattimento dell'eroe di un manga. E quindi, amplifica critico. Certo che poi, e con questo, tutti quanti sono potenziati, finalmente. Ale! Oh, ci è voluto un sacco di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Eh sì. Beh. Immagino cosa sarà la prossima volta. Ma sì, tanto domani è festa, che ti frega. L'importante è che questi quattro giorni noi possiamo entrare nel tartaro. Niente fregature di nessun tipo. Oggi iniziano le vacanze invernali. Ehi! Junpei-kun? Oh, Fuuka-chan. Dove hai visto Cidori la prima volta? Oh, sì. Pappamole, madonna mia Un termine migliore non c'era Fu Non c'era migliore Junpei Ma in realtà si Forse fra tutti tu sei Quello più cambiato In modo positivo A volte sei crollato Come quando ci hai scazzato addosso Ma ci può stare una volta ogni tanto Eh esatto Vedi Però ci sta una volta ogni tanto Ma è normale Junpei È normale È una situazione talmente assurda Ma è normale È normalissimo Stai per affrontare l'oscurità Eh esatto Tutti hanno paura Ma tutti vogliono combattere Se ci pensi in realtà è un'ora in più di sonno Se riesci a dormire Che è la cosa migliore da fare sempre Fuka Per un atto io pensavo in tendenza adesso Ora Dai Vediamo cosa vende Tanaka oggi Oggi vi offriamo lo sconto di gemme di fine anno È l'ultima offerta dell'anno Ed è imperdibile Abbiamo un sacco di gemme appositamente scelte per voi Iniziamo con l'adorabile Rubino Due di queste gemme rosso a fuoco Solo per voi Oh santo cielo che meraviglia Ma aspettate non è tutto Vi regaliamo anche 5 opali Il tutto per 99.000 yenna È un po' tantino Però il Rubino ci serve Quindi vai Come ci siamo ridotti a questo Come ci siamo ridotti ad avere così pochi soldi Chi mangia bene ha un corpo in salute Esatto E finiamo questa storia Io e te Ayase Ayase È il momento di finire Anche il tuo confidante Ti prego dammi buone notizie Ti stavo aspettando Stavo andando a mangiare Beh non proprio Però sì Andiamo Bene Dunque Cosa potremmo ordinare Con ramen non sbagli mai Potrei mangiarlo all'infinito Mangiamo solamente quello quindi Quella borsa Mi stai dicendo che te ne vai? Vai già via? Madonna mia Manco il Natale Che palle Mi dispiace per lui Eh è ovviamente Ma ci credo Un po' mi dispiace Cioè Capisco tantissimo le motivazioni È un bravissimo ragazzo Però cacchio Dai ti accompagno Ovviamente Ci mancherebbe Mi spiace Mi spiace davvero Che cos'è? Cosa mi regala? Sembra la chiave di un'auto Questa? Immaginavo un po' Quella è però Quella è vera Di sicuro In realtà no Cioè io continuo A non capire Perché lui si incolpa Della morte del padre Lo spero Lo spero Lo spero Però Cavolo Già abbiamo due chiavi comunque Quella della moto E quella della macchia Fantastico Ci stringiamo la mano? Ho stretto un'amicizia eterna Addirittura Ma Cioè io capisco tantissimo Quello che sta facendo È la cosa Più giusta possibile In assoluto E ci vuole coraggio A fare una roba del genere Però cacchio Cioè Eh Mi spiace per il suo futuro Mi dispiace tantissimo Su quello Non posso dire Che condivida Purtroppo Mi dispiace Perché sicuramente Avrebbe avuto un futuro migliore E purtroppo adesso Dovrà sacrificarlo Per il bene della famiglia Per carità Come ripeto Una cosa nobilissima Però Quindi Dopo tutto questo giro Di storango Finalmente Scopriamo Se il rango 10 È Ellel Yes Madonna mia Grazie Persona 4 Grazie Ma certo Lo spero Ho salutato A Yasi E sono tornato al dormitorio Che peccato Che peccato Altro confidante Che sei andato Ciao Come è andata oggi? Altri 4 giorni Nella vigilia di capodanno Per un po' Sono stata in ansia Senza sapere Cosa avrei fatto Ho anche pensato Che la paura Averbe preso il sopravvento E non avrei potuto Decidere nulla Ma mi sbagliavo In realtà Mi sento forte Perché non sono da sola Posso Ti informo che Si avvicina Inesorabile Del tartar Si riscontrano Tracce umane Eh grazie Lo so Volevo aspettare A questi giorni A questo punto Allora guarda Ci entriamo Fra domani E dopodomani Perché Beh quel caffettino Infiniti SP Ci sta Ma a parte questo Elisabetta A questo giro Voglio farmare Voglio farmare Davvero un sacco Di punti esperienza E Laddove possibile Vorrei provare Ad abbattere Il reaper Visto che è già apparso Quindi Stasera Caffettino Grazie a tutti